Salve a tutti chi è qui, Francio, bentornati in un nuovissimo video delle serie di Minecraft. Ragazzi, benvenuti nel 47esimo episodio, se non mi sbaglio, spero veramente, vivamente, di non sbagliarmi. Ragazzi, qui avevo visto spawnare qualcuno, ecco, perché sono arrivato qui, però adesso non c'è più nessuno, i bei bug di Minecraft e dei mob spawner. Fatti bene, devo dire, fatto molto bene. Comunque ragazzi, non scordatevi di mettere like, di iscrivervi al canale e di dare un'occhiata alla descrizione dove trovate non solo le mie playlist, ma anche il mio libro. Allora ragazzi, nello scorso episodio, adesso vi faccio vedere che cosa abbiamo fatto insieme. Nello scorso episodio, ragazzi, abbiamo, ecco qui, perfetto, abbiamo, aspettate che tolgo il minecart, abbiamo fatto la libreria, abbiamo fatto la libreria. Aspettate un attimo, voglio controllare insieme, insieme a voi, proprio il rec, controllo il rec, se ho detto una cavolata. Se ho detto una cavolata, no, siamo nel 47esimo episodio. Perfetto ragazzi, questo era un controllo da fare, ecco, era un controllo da fare. Abbiamo fatto questa libreria, poi magari aggiungeremo altri pezzi di libreria, perché lì comunque vedete che qui ho fatto la finestra apposta per far vedere ogni volta che abbiamo un bel villaggio pieno di persone, comunque di cartomanti e tutto, quindi la carta, ragazzi, non ci manca, poi abbiamo anche la farm che vedete lì di canna da zucchero, quindi abbiamo librerie infinite, abbiamo anche la farm di mucche, quindi per quanto riguarda la libreria non c'è nessun problema, ne possiamo veramente pure distribuire al mondo intero. Qual è il problema? Il problema è che voi non state vedendo in questo momento la cosa che dovrebbe stare al centro della libreria, ovvero il tavolo degli incantesimi. Per fare il tavolo degli incantesimi, ragazzi, vi faccio vedere, allora qui no, dovrebbe stare carbone e rame, allora oggetti rari ovviamente ancora mi devo un attimino, eccolo qua, preziosi, abbiamo due diamanti. Con due diamanti, ragazzi, voi sapete che si può fare il tavolo degli incantesimi. Qual è il problema? È che per fare il tavolo degli incantesimi a noi servono non solo questi due diamanti, e scusate per il taglio, eccoci tornati, comunque ammiriamo sempre il tramonto che ormai è diventata una costante, è diventata una costante, comunque ragazzi vi stavo dicendo che non ci servono semplicemente quei due diamanti, ma ci serve comunque la pietra principale per fare il tavolo degli incantesimi, che ovviamente si prende con un piccone di diamante e noi diamanti ne abbiamo semplicemente due. Quindi, la prima cosa che facciamo adesso, prima di spiegarvi tutto, è andare a dormire. Prima, proprio, la cosa principale è andare a dormire. Ecco qui il nostro letto, ha una piazza e mezza, perché poi il matrimoniale era un po' troppo, un po' troppo tanto fondamentalmente siamo soli, quindi una piazza e mezza va benissimo. Ok, a parte le cavolate, ci serve sia quella pietra lì, che si prende solo col diamante, e ci servono anche altri diamanti, perché ovviamente non è che noi possiamo incantare, cioè magari un piccone di ferro o una spada di ferro, sarebbe veramente inutile. Poi lo so che si incantano prima i libri e poi si passa questo incantesimo agli utensili. Però comunque ragazzi, magari ci capita un libro con Fortuna 3, cioè è un po' assurdo metterlo in un piccone semplicemente di ferro. E quindi ragazzi, noi ci ritroviamo di fronte a un bivio, ci ritroviamo di fronte a un bivio, qui intanto non spawna nessuno, ovviamente. Ci ritroviamo di fronte a un bivio, perché noi possiamo o andare alla ricerca di questi diamanti, di questa pietra che si prende solo con i diamanti, e io non lo dico, non dico il nome semplicemente perché so che c'è qualcuno che poi mi dirà e ma perché non lo dici? Quindi semplicemente per gioco. Tanto sono spawnati due mob, quindi ci prendiamo la nostra bella esperienza. Oppure, quindi ho questo, ragazzi, quindi semplicemente dovremmo andare in caverna, fare un bel po' di episodi in caverna alla ricerca di diamanti e anche della lava, che ovviamente è fondamentale. Oppure, ragazzi, possiamo restare qui e concentrarci sul miglioramento, adesso sentite la moto, perfetto, e concentrarci sul miglioramento della nostra casa. Perché? Perché la nostra casa non è finita con nostra casa, intendo anche la nostra zona. Quindi, per esempio, guardate questa ferrovia. Cosa mi è venuto in mente di fare? Questa ferrovia io direi di trasferirla in una zona a cui effettivamente serve una ferrovia, che è molto più distante, ovvero questa qui. Qui ci servirebbe una ferrovia veramente molto veloce per raggiungere in fretta e fuori il villaggio, anche perché, dato che è così lontano, io da un sacco di episodi che non ci vado. Quindi servirebbe qui una ferrovia. E lì, invece, guardate proprio dove in questo momento c'è la ferrovia, io vorrei costruire una cosa, secondo me, molto utile e molto anche scenica, ovvero costruire un bel ponte. Un bel ponte, magari un ponte di legno o un ponte di pietra, magari di stone, che è un po' più carino, e migliorare. Questa zona ovviamente la lasciamo così perché, sì, ci sta, oppure mettiamo qualche, che ne so, coltivazione random per abbellire la zona a cui magari togliamo la ghiaia. Insomma, ragazzi, dovreste dirmi, mi serve il vostro aiuto, perché dovreste dirmi che cosa volete vedere nella serie. Se volete che io scenda in grotta alla ricerca di diamanti per completare la nostra libreria, per ovviamente magari migliorare il nostro equipaggiamento per poi un giorno andare nel nether, che sarebbe pure una bella avventura. Oppure se volete che prima io mi concentri sulla nostra casa, quindi che io mi concentri più che altro sul migliorare tutta questa zona, magari costruire il ponte, costruire la ferrovia, tutte cose, ragazzi, che vanno fatte, tutte cose che vanno fatte. Quindi, ragazzi, ditemi voi che cosa volete, è per questo che mi serve il vostro aiuto, quindi, ragazzi, importantissimo, commentate, commentate un sacco, e fatemi sapere che cosa, che cosa volete, perché fondamentalmente queste due cose vanno comunque fatte, cioè non è che io o faccio una cosa o ne faccio un'altra, sono cose fondamentali che vanno fatte, perché noi dobbiamo andare nel nether e dobbiamo anche migliorare la nostra zona, costruire il ponte e costruire la ferrovia. Semplicemente ditemi un po' l'ordine che volete che io, appunto, segua. Allora, ragazzi, questo episodio era un episodio molto breve, tanto per chiedere il vostro aiuto, tanto per informarvi, quindi finisce qui. Mi raccomando, commentate, in questo video vi chiederò espressatamente di commentare per prima cosa, poi mettete like, iscrivetevi al canale, controllate tutti i miei link nella descrizione e mi raccomando, per chi mi volesse supportare ulteriormente, c'è il link qui sotto, non solo per le donazioni, ma anche per il mio libro. In questo modo potete non solo conoscermi meglio, ma leggere anche un buon libro, dai. Un po' di complimenti bisogna farsi ogni tanto. Ragazzi, niente, l'episodio finisce qui. Io vi ringrazio di avermi seguito, di aver visto l'episodio e noi ci vediamo al prossimo video di Minecraft. Ciao ciao!